ma sei mai in bene ragazzi siamo in grance siamo tornati con un nuovo video su detroit cod detroit e la gran cifra mamma mia io me la sento matta movement, movement exo ahahah per me dottor agente e' parte e' la rosa 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 il treno e' sopissi melo maria e' il netto ecco il nome è vero non è vero la città mamma mia questo incredibile e ho morto 1.4 c'è qualcuno che ha fatto i 15 la mia pancia non pranzato tu stato amato a un po' e' la pialla non ha preso proprio è la gara piazza la cifra non te l'argo vedi come la cacmina guarda come l'argo oh oh poco poco o non è la città rire 15. rarri un'altra direi che non ci dice che mi chiamano il mio padre la troppo male l'uomo ai comuni di trapani vai vai così trapanamoli tutti memoria di prima vado loro decido da mazulli ok qui dentro sta per entrare a class scopato stagenti e stati un fatti conto.it di giro di tutta la mappa ecco рок perciò la voresima o dettagli! la massi tambah tantesca tantesca tos review tei ' ? o o non amare a quindi dare tutto 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 che si può fare e si può fare poter dire imparare a tutto quello che ha fatto così come si è certo che fare se ci stessi mamma mia mamma sento matto oggi infatti sto 6 credi che gli eri un po' no 6 6 6 se non mi riempie 6 6 6 e non 7 6 e in avanti vediamo 8 6 lo vediamo tra poco 8 6 l'ottomatica la voglia roma spari segni automatica mamma mia 6 uh kill ma che è ma spinto si è vero ah si ma spinto veramente ah da quel cazzo di pugno ancora è inutile ma è inutile che come si è vero come si è vero a coltellata c'è niente è partita equilibrata qua è quelli broski proprio oh le boschi salmone boschi come faccio a sapere che stavo là non lo so incredibile incredibile un raggio l'azzo e e oh 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 mamma mia d'arrile la bella l'arrile muore il bombardamento ancora no 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 vedi giusto pareggio distruttivo sto posto perchè ne fa 2 la bombarda tutta la mappa c'è dovrebbe stare a morire che c'è un posto che è colore pensavo amico mio il lavoro sento un rumore strane nella camera provvigionamento nemico mamma ovo primo primo a 9 10 12 12 12 13 12 a. mamma mia ciao ovo no 4 coppia 1 un po' di nuovo l'amore su finisce la torre chi mi scordo sempre in questa cancella del volo ma io ci sono più figli ero lì è incredibile ma non è mai sto ora non è questo è il suo pubblico e non è solo a domani avanti avanza d'arroo mancano solo 5 punti e l'avversario vincere un anno e va bene se ti stai non ci erano capito ma fare che bomba al bombare dopo il momento in cui non dovrà essere bombardato capito 4 e il pugno ora per guardare la domanda il pugno ecco vabbè sulla testa finale mi lasciamo questo video molto randolo su code una ragazza fatti da dire che cosa quando se si vuole vedere altri video e niente, al prossimo video bella!